Aschiao Aschiao Oh Aitcho Che pronuncio che c'è? Oh Aitcho Eh come so Guarda perché vieni così male Oh Aitcho E ragazzi siamo i Granasi e siamo tornati con un nuovo video della Challenge La Challenge dei Granasi Oggi abbiamo un remake, visto che vi è piaciuto tantissimo, che ha fatto un sacco di successo Un remake della sfida The Backwards Challenge Mi sono molto utile Parole al contrario Esattamente Vuoi dirlo te? Dillo te E niente, in pratica consiste in un'applicazione per l'iPhone dove tu devi dire una parola al contrario E poi l'iPhone ti dice se l'hai detta giusta reversandola E le parole io decido le sue e lui decide le mie Agab Se non avete già visto il primo video andatelo a cercare da soli perché non metteremo nessun link in descrizione Agab due volte Troppo Agab sto ragazzo Qui c'ho io E quindi devo dire la parola? Sì Disostruzione Dai sei una merda Ma posso fare disostruzione? Ma naso di manco normale Ho messo tre ore a legge Cioè Vabbè, croce rossa Croce rossa Vai, vai, vai C'è tre secondi Uno, due, tre Vai, subito Dai, vai, dai No, stavo dicendo Oh, dai, oh, mamma mia Dai, è facile Arros e Cresce Casomai, assor No, la sapevo Vabbè, sentiamo se ho fatto giusto Sì, è una merda Perfetto Perfetto Non ho sbagliato neanche una parola Mamma mia Dai Spara Disostruzione No, sto scherzando Cappotto Cappotto Sì, è abbastanza Cioè, mi sta inquietando questa cosa No, è vero comunque Vabbè, allora Vincenzo mai Condono Dai Ondo, onda Cheisuke, onda Dai, il contrario Vai Dai, dai Cheisuke, onda Cheisuke, cheisuke Stampella Stampella Aspetta, mi avete sentito Ok Alep 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 Come non barare Insomma Stampella Mamma mia, sono troppo forte Sono troppo forte Sì Sono forte Bastone Tipi vecchi Che usarei corti E non stab Bastone 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 Non ho capito Non c'è sta partita Regal Famo divertivo Se vai Fa gloria Adidas Sada 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 Tutta mia Questa Sì Massa Adidas Mamma mia Ho troppo forte Pure sto casa Pure cosa così ha preso Al contrario com'è Che settimo fai Che settimo fai Che settimo fai Senti Capito? Mamma mia Mamma mia Mamma mia Mamma mia Hai mamma No Mamma Scusate Eh Non ti prendi On mamma Scusate Mamma Mamma mia Mamma mia Mamma mia Mamma mia Marlboro Orblom Eh no Vabbè vai Orblam Malbro Malbro Tutto bello bro Malbro Ehi quella era Piero Pelù Ma cazzo Totto bello bro Mutanda Mutanda Eh non mi sono crissi Perché Non è più un dono ragazzo Ad natam Ad natam Così Come a caso Ad natam Madanda 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 Lollo Lollo Cabiniere Vabbè ciao E che Non è impossibile Poliziotto Meglio Eh Vai Otto e Zop 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 Ma che cazzo Stai Marzupio Marzupio Innanzitutto Marzupio Eh tu hai detto Marzupio Che diverso Vabbè in romano Si dice Marzupio Che Cioè Ma capito Oipus Ram Che Che cose Che figo di sentillo Marzupio Marzupio Marzullo Marzullo Vabbè diciamo che Mestre c'è la grande E niente Faccio schifo Quindi Non è perché è forte lui Faccio schifo io Si Certo No è perché è forte lui Io so forte Ma lui è più forte Elab Quindi I tut Aoi C'è come la corda Che ho filato La grande Comunque Dai grande a se è tutto Se ti è piaciuta questa sfida Lasciate un like Uno Solo Un like a testa Quindi tutti quelli che vedete Sono dieci minuti di attenzione Io voglio dieci cazzo mila di like Capito Cazzo mila Cazzo mila Cazzo mila Dieci cazzo mila di like E un cazzo sciro anche direi C'è stavo dai Comunque Noi ci vediamo al prossimo video Se ne mi raccomando Dai grande a se è tutto Bella Io